ciao ecco come potrebbe essere la giornata di domani allora abbiamo la disgrazia e la leggerezza prendiamo le nostre cinque carte e vediamo nello specifico che cosa ci dicono allora abbiamo la leggerezza la fortuna il nemico l'amore e il bambino allora domani potremmo avere un'occasione per conoscere qualcuno di nuovo e che a noi piacerà molto anche se non sarà l'uomo della nostra vita però potrà portarci una giornata comunque serena e all'insegna dell'amore ciao a tutti da silvia